L'ultima 10 ore di Stadionese studio Marco Gullà ci si chiede ma il Palermo contro la Fiorentina meritava la sconfitta o ancora una volta i rosa e nero sono andati KO ingiustamente? Alla domanda non si è risposto in maniera esaustiva tutta colpa di Gilardino l'uomo del momento il suo gol irregolare ha smosso il calcio italiano non facendo parlare d'altro il Palermo però cerca di dimenticare in fretta domani si torna nuovamente in campo allo stadio via del mare c'è il Lecce il Lecce dell'ex Fabio Caserta il Lecce sogno proibito di Miccoli domani sarà la sua gara torna nella sua Lecce però per vincere per far dimenticare le due sconfitte consecutive sentiamo Fabrizio Miccoli Una partita un po' particolare però va bene bisogna andare a giocare e cercare di fare bene quello è sicuro Io ho sempre detto che se dovesse succedere di fare gol l'unica squadra dove non esulterei mai è il Lecce è normale È una partita che tutte e due le squadre cercheranno di vincere sarà una bella partita perché secondo me sono due squadre che giocano bene alla fine poi quando sei in campo io devo cercare di dare il massimo per me e per la squadra per i miei compagni e per il rispetto che ho da parte della società e di tutta la gente di Palermo Alberto Gilardino è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo a causa della condotta antisportiva in occasione del gol segnato a Palermo Maurizio Zampanini manifesta soddisfazione A me dispiace per Gilardino perché a me dispiace sempre quando un giocatore viene penalizzato però è una decisione giustissima Salva di esempio per tutti i furbi che vogliono fare i furbi perché il calcio è uno sport e nel sport non si vince con la furbizia si vince con la superiorità Al di là delle episodi di Gilardino noi la partita l'avremmo persa lo stesso perché naturalmente Gilardino avrebbe potuto in quell'occasione che era una grande occasione vuole fare gol di piede e avremmo perso 3-1 lo stesso Allenamento mattutino per il Palermo al tenente onorato in vista della gara di domani sera al Via del Mare contro il Lecce Brutte notizie dall'infermeria per il tecnico rosanero Davide Palardini che dovrà rinunciare agli infortunati Bovo Michelisi e anche Amelia ritorna invece a Morris Carozieri da valutare le condizioni di Paolo Della Fiore che nella giornata di ieri ha svolto lavoro differenziato in porta quindi andrà Fontana al posto di Amelia la difesa dovrebbe essere confermata in attacco invece alla coppia Cavani-Miccoli Quella di domani sera allo stadio Via del Mare di Lecce sarà la prima gara del Palermo diretta dall'arbitro Dino Tommasi di Bassano del Grappa non ci sono precedenti ufficiali infatti tra il rosanero e il fischietto Veneto Sono ben sei gli indisponibili in casa Lecce per la gara di domani contro il Palermo mancheranno infatti gli infortunati Angelo, Petracchi e Zanchietta oltre agli squalificati Ariatti, Fabiano e Tiripochi Lecce quindi in cerottato ma non in avanti dove ci sarà la coppia Castiglio-Cacia a supporto all'ex rosanero Caserta Per la nota agenzia di scommesse Cursal Bookmaker in Lecce è leggermente favorito sul Palermo nella gara di domani sera al Via del Mare valevole per la non aggiornata di Serie A Il successo dei Salentini è cotato a 2.60, il pareggio a 3-10, la vittoria del rosanero a 2.65 Per tutte le altre notizie